Le discussioni sono iniziate sulla questione dopo che il duca di Sussex ha rilasciato una controversa intervista podcast in cui ha paragonato la sua vita al film The Truman Show e ha affermato di aver sofferto di dolore genetico. È molto improbabile che la regina priverà Meghan Markle e il principe Harry dei loro titoli reali, ha affermato un commentatore. Le discussioni sono iniziate sulla questione dopo che il duca di Sussex ha rilasciato una controversa intervista podcast. Ha detto al presentatore Dax Shepard che la sua vita era come il film The Truman Show e ha detto di aver sofferto di dolore genetico. Si dice che i suoi commenti abbiano fatto arrabbiare alcuni aiutanti reali, che secondo quanto riferito credono che a lui e alla moglie Meghan dovrebbero ora essere tolti i loro titoli reali. La coppia ha già abbandonato HRH dai loro nomi, dopo aver lasciato la vita pubblica l'anno scorso. Alla domanda sul problema dei titoli, il corrispondente reale di Tolcredi o Rupert Bell ha detto che era molto improbabile che sarebbero stati spogliati. Ha detto, la regina li ha dati come regalo di nozze e penso che sarebbe molto difficile toglierglielo, date le circostanze che sono state assegnate a questi titoli. L'onorevole Bell ha detto che, secondo la Costituzione, dovrebbe probabilmente aver luogo un voto in Parlamento affinché la coppia venga privata dei titoli. In alcuni ambienti è stato suggerito che Harry e Meghan si trattengano solo per scopi commerciali. Hanno lasciato la vita lavorativa nel marzo 2020 prima di confermare l'accordo un anno dopo e trasferirsi in California. La coppia, che sta aspettando il secondo figlio, da allora ha concluso accordi multimilionari con Netflix e Spotify. Harry ha anche trovato posizioni di lavoro, anche come dirigente in una start-up di salute mentale. Secondo quanto riferito, l'intervista del Duca con il signor Shepard sul suo podcast ha suscitato preoccupazione tra gli assistenti di palazzo, che sentono che il tono è spento. In un'apparente critica a suo padre e persino alla regina indirettamente, Harry disse di aver sopportato qualche forma di dolore o sofferenza a causa delle esperienze di suo padre crescendo.